Buonasera a tutte, io ero atleta ma questo non vi sarà sfuggito direi, però esistono tanti sport da fermo adesso, non so io dire, non è detto. Comunque buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Io sono presidente di un'associazione che ha un bilancio economico straordinario, quest'anno abbiamo raggiunto gli 800 euro e ce ne vantiamo, però ci odiano tutti e questo dimostra che per farsi odiare, per fare le grandi battaglie, i soldi sono utili per carità ma non sono indispensabili. Noi come associazione nazionale atleta in realtà siamo un gruppo di amiche e di amici, uomini e donne, incredibilmente testardi, che con alcune campionesse che avevano vinto talmente tanto da non poter essere inascoltate dalla stampa e una di queste è Antonella Bellutti che ci ha sempre messo la faccia nonostante le sue due medaglie d'oro olimpiche diciamo richiamassero un po' più di prudenza perché poi dopo magari ti arriva qualche incarico, ti arriva qualche lavoro ma se protesti non ti arriverà mai e quindi noi con questi atleti abbiamo cercato di sollevare quello che è un problema che come aggettivi diciamo secondo me privilegiati sono vergognoso e indecente. Sono una situazione che rende l'Italia una delle peggiori esperienze a livello europeo ma no senza le peggiori, siamo proprio la peggiore, non è tra le peggiore, è proprio la peggiore e lei è stata bravissima a spiegarvi una sintesi di quello che accade. Io ve la voglio ancora di più rendere esperenziale. Un'atleta che oggi viva di sport, non sono tante ma ci sono, sono decine di migliaia in realtà fanno un lavoro ma non sanno di fare un lavoro. Fanno un'attività sportiva che di fatto prevede una serie di condizioni che sono del tutto assimilabili a un lavoro questo lo dicono i tribunali, lo dicono i tribunali europei ma questa cosa al CONI e alle federazioni non interessa. Ti bollano come dilettante e come tale tu non hai diritto a niente. Sei un lavoratore, una lavoratrice invisibile, percepisci dei soldi spesso e volentieri, una parte lo sappiamo tutti è anche data in nero, quando non è data in nero in maniera virtuosa è comunque un rimborso spese che è chiamato impropriamente così fino a 7500 euro all'anno, non è neanche tassato quindi può fare anche comodo ma quando una lavoratrice prende 1000-1200 euro e di quello fa il suo lavoro è sconvolgente che in Italia le si consenta di non avere, consenta tra virgolette, nessun diritto. Quindi ti infortuni i problemi tuoi, sei incinta te ne vai a casa, vuoi un contratto, non esiste, il tuo è un rapporto di rimborso spese quindi già è tanto se ogni mese te lo riconosco. Tu non mi paghi più, è un problema tuo, voglio andare a discutere questa cosa in un tribunale del lavoro, in un tribunale civile, non puoi perché lo sport italiano dice che se vai a discutere queste cose nei tribunali non giochi più, ti fermi perché queste controversie le devi discutere nei tribunali dello sport che sono naturalmente dei tribunali dove a nominare le persone che decidono sono quelli che poi sono i datori di lavoro degli atleti e delle atlete. Ora, questa roba già è allucinante di per sé, ma la cosa peggiore è proprio quella che lei diceva della legge 91 dell'81 che regola lo sport professionistico. Ma voi pensate che sia mai possibile nel 2017 dover dire che esiste una legge dello Stato a cui le donne italiane non possono avere accesso? Beh, proprio così, quella legge là serve a far sì che quelli che fanno sport per lavoro, maschi o femmine, abbiano dei doveri e dei diritti come qualunque lavoro che voi fate. Nello sport italiano non c'è nessuna atleta, neanche lei che ha vinto due Olimpiadi, due, non ne ha vinta una, due, che abbia potuto e che possa oggi avvalersi di una legge dello Stato. È follia, è una cosa anticostituzionale, è una cosa vergognosa ed è una cosa che i poteri forti non discutono e che non vogliono discutere. Io penso che far parlare le atlete che sono la dimostrazione di questa pessima situazione sia molto meglio che non ascoltare me. Però ricordatevi una cosa, noi oggi abbiamo lo sport d'elite più militarizzato al mondo, è una follia, abbiamo i corpi militari che sostengono lo sport italiano perché consentono ad atlete straordinarie come Chiara Rosa di poter avere uno stipendio a fine mese, delle ferie, un diritto di potersi vedere riconosciuta domani una pensione che non pensate, ahimè Chiara Rosa, la tua pensione non sarà stradosferica, mi dispiace, ma almeno ce l'avrà lei, Federica Pellegrini, Josefa Idem, Giovanna Trillini, tante altre che non sono nei corpi militari, anzi Giovanna lo era, comunque altre atlete, non ce l'avranno mai una pensione perché non esiste un contributo che va poi a diventare pensione. Quindi tutto questo è assolutamente inaccettabile, questo si chiama sport italiano. Chiudo dicendovi che nel sistema politico sportivo del CONI, voi dite ma in fondo a noi che ce ne frega, è no, perché noi diamo i nostri soldi delle tasse lì, sono 400 milioni all'anno che prende il CONI dalle nostre tasse e quei soldi vengono dati a 45 federazioni sportive, in parte, non tutti, e sono i nostri soldi, i soldi di uomini e donne, di quelle 45 federazioni, pensate come è importante lo sport italiano, come conta sulle donne, non c'è mai stata una Presidente federale donna, una in 70 anni di sport, a voi sembra normale, a me no, non c'è mai stata una Presidente del CONI e quello lo aspetteremo secondo me ancora probabilmente per almeno oltre 4 anni, poi chissà, però la cosa allucinante è che nei luoghi apicali noi non ci siamo, però vinciamo tutto.